Proprio lui, che non era proprio il campione dell'europeismo tedesco, dice a questo punto l'unico modo per salvarci, perché diceva ieri, siamo divertiti un po' con Luca Caballo al punto e a noi alla pratica, diceva sostanzialmente siamo un'altra volta senza microfono, vediamo se riusciamo a trovare il microfono, il microfono è qua, soltanto è caduto, vi spiego, siccome non abbiamo, perché la RAI non ce lo dà neanche la possibilità di un operatore di ripresa che controlli le telecamere da su, questa telecamera, io in genere faccio la rassegna in piedi, questa telecamera si è abbassata un po' per esigenza del turno della notte, allora non me ne ero reso conto e uscivo completamente dalla inquadratura, per rimettermi a posto ho dovuto prendermi la sedia e sedermi e il microfono se ne è andato, scusate questo fastidioso esercizio di scuse, ma insomma è così, siamo l'unico telegiornale in Europa, forse nel mondo, che va in onda con le telecamere fisse e inchiodate senza operatori di ripresa, perché non lo so, fatemi poi un'idea.